buongiorno siamo qui non siamo ancora pronti ma ci siamo siamo in via statuto al numero 16 questa è un'anteprima del negozio arredato d'amber Milano siamo a Milano quadri ondulati sculture in via statuto 16 riferimento è facile e semplice che siamo di fronte al bar della Tunna pronti quasi comunque vi aspettiamo buona giornata